Carissime famiglie, continua il percorso dell'icona della Sacra Famiglia che viene a visitare le nostre case. Una bella occasione per radunarsi attorno a lei, alla Sacra Famiglia, chiedere il suo sostegno, la sua protezione. In questo cammino vogliamo soffermarci sulla casa di Nazareth. La casa di Nazareth è la casa non in una città importante, una metropoli, ma in un piccolo paese, una casa dove possiamo dire si respira l'aria della normalità, dell'ordinarietà. È lì, in questa ordinarietà e normalità che Dio si fa vicino, che Gesù viene accolto, che Dio viene ad abitare in mezzo a noi. Ecco, in quella casa di Nazareth che Gesù, Maria e Giuseppe vivono insieme trent'anni, trent'anni di cui non conosciamo molto dalla pagina dei Vangeli, ma che comunque lasciano immaginare la crescita di questa famiglia nella capacità di amare e nella capacità di comprendere giorno dopo giorno come compiere la volontà di Dio. Gesù stesso, in quella casa, in questi trent'anni, nella relazione con la mamma Maria, con il papà Giuseppe, cresce e comprende, matura la sua vocazione nel compiere la volontà del Padre che è nei Cieli. E così, in quella casa, Gesù da fanciullo cresce da adolescente e da giovane, impara le relazioni, impara la vita di preghiera, impara a crescere nella capacità di amare, impara la vita del paese. Maria e Giuseppe crescono anche loro in questa relazione, nell'educare il figlio, nelle capacità di crescere nelle relazioni di vicinato. Gesù, accompagnato da Giuseppe, impara il mestiere del carpentiere, cioè impara la dimensione del lavoro, della fatica, del servizio, della gioia dello stare con gli amici. È quell'ordinarietà della vita, una vita che cresce, una vita che cresce nella normalità per essere poi spesa come dono per gli altri. Così anche noi, da quella casa di Nazareth, vogliamo attingere la capacità di crescere nell'amore, nei gesti ordinari della vita. Per questo vorremmo soffermarci proprio nel leggere quali sono i gesti ordinari delle nostre famiglie che fanno crescere le nostre famiglie nella capacità di amare giorno dopo giorno. I gesti ordinari di una madre nei confronti dei figli, di un padre nei confronti dei figli, di uno sposo nei confronti della sua sposa e viceversa, di un figlio nei confronti dei propri genitori e così anche nei confronti dei nonni. Quali sono i gesti ordinari che ci fanno crescere nella capacità di amare? Riscopriamoli, viviamoli, dagli attingiamo perché è da questa normalità che cresce l'amore e l'amore da questa normalità può crescere per fare cose straordinarie.